È stato presentato oggi all'Aquila l'innovativo Business Incubator Scientifica Lab, che prende posto negli spazi del Tecnopolo d'Abruzzo. I laboratori di chimica, biochimica, elettronica e stampa 3D rappresentano il cuore pulsante dell'innovazione di Scientifica Lab. In questi spazi le aziende accolte possono realizzare il loro potenziale, trasformando idee innovative in soluzioni tecnologiche. Scientifica è una realtà italiana, un fondo di investimento privato che è anche una componente londinese, nata con l'obiettivo di supportare le start-up del Paese nelle prime fasi di vita e avviamento del business. nel campo della ricerca scientifica e innovativa. Il general manager Riccardo D'Alessandri dice che attualmente ci sono 30 persone che gravitano sull'Aquila e spiega che l'obiettivo è finanziare le prime 5 start-up entro la fine dell'anno. Supportare gli scienziati non è solo dare investimenti, cosa che assolutamente faremo, ma è anche supportarli nel loro percorso di crescita. Per quello nel territorio, qui al Tecnopolo d'Abruzzo, abbiamo costruito i nostri laboratori per dar supporto proprio alle start-up che andremo a finanziare. Nell'ambito dell'Advanced Material, Advanced Manufacturing e Intelligenza Artificiale. Il percorso sarà un percorso di coaching e quindi un percorso che darà agli scienziati tutti quegli strumenti necessari per arrivare sul mercato. Come attività operativa siamo circa una trentina di persone e come aziende start-up contiamo di finanziare le prime 5 start-up entro fine anno, entro fine del 2021. Per il 2022 abbiamo a target il finanziamento di altre 10 start-up nel territorio italiano. Un fondo in parte londinese che poteva scegliere qualsiasi altra destinazione, ma che ha scelto l'Aquila al suo Tecnopolo, che si conferma eccellenza. Il direttore del Tecnopolo fa il punto. Oggi all'interno ci sono 30 aziende con circa 1.500 occupati diretti. Oggi il Tecnopolo d'Abruzzo sancisce definitivamente quello che effettivamente è. È il punto di riferimento insieme ad altri quattro Tecnopoli in ambito nazionale per quanto riguarda l'offerta internazionale. Considerate che in realtà come quella di oggi di scientifica poteva andare ovunque, in qualsiasi parte dell'Europa, ma ha scelto il Tecnopolo. Non per simpatia, non per goliardia, ma per l'efficienza che in questi anni abbiamo dimostrato. Ultimo sketch, diciamo soltanto che oggi gli occupati in relazione alla tecnologia è tre volte di più di quanto era il fasto dell'ex Italtel, che per noi aquilani è un punto di riferimento. Considerate che nei fasti erano 4.000 dipendenti, oggi con l'occupazione attuale che stiamo a 1.500 occupati, ma con la tecnologia andremo a sviluppare ben altri numeri.